Ecco le 20 figurine di San Magugni. Il dottor Giulius T. Merletto. La madre di Giulius T. Merletto. Il padre di Giulius T. Merletto. Il direttore dell'Istituto Nazionale per la Prevenzione delle Epidemie. Il dottor Cocco. Il dottor Stratocco. Il dottor Cocchino. Le fidanzate dei dottori dell'Istituto. Angelique. Alice. A Franca. La famiglia del mese. Composta dalla ragioniera Pompeo Balsamo. Dalla sua signora, Meldra Sputa. E la nipotina, la piccola Dori. Il trio delle infermiere. Composto dall'infermiera Letizia. Dall'infermiera Mariella. Poi ministro della minestra. Dall'infermiera Grazia Giovannetti. Il trio dei barellieri. Il primo è Mimmo. Il secondo è Spurgo. Il terzo è Pozzineri. E per finire, lo zio Gustavo. Il super contagiatore. Il terzo è più zero. Il futuro di un paese. Il tema è che Gia di un canale. Grazie.